Bene Ovviamente io un pezzo di sassoni in culo. Ci piacciono i sassini in culo. Lo so ovviamente. Tanto anche dai sassini. Siamo venuti qua per dire che ci piacciono i sassini in culo. Bene Ciao a tutti, bentornati ragazzuoli, sparapallini, quel che è. Lui è Red. Se non lo conoscevete, se non lo conoscevete, conoscevatelo. Se non lo aveste conosciuto. Esatto. Siamo qui, siamo venuti fin qui a 20 centimetri da un precipizio di 300 metri per cosa facciamo? Oggi andiamo a mangiare una razione militare che avete scelto voi tra l'altro grazie ai sondaggi del buon Rico. Avete optato per menù 12 ovvero elbow macaroni con una salsa di pomodoro. Questa qui è la situazione di oggi. Poi ci siamo anche chiesti cosa volesse dire elbow macaroni, no? Cioè che cazzo vuoi dire? Macaroni gomito? E abbiamo scoperto che è la pennetta, il maccherone come lo intendono loro è fatto curvo. Quindi è elbow perché ha la... E' essenziale dirlo, dovevate sapere. È fondamentale. Non ci resta che piangere. Ci resta che capire se sarà buona o farà schifo. Esatto. Ok. Porga, anzi, apra il tuo coltello. E io il mio bellissimo coltello della Walter. Farò alla vecchia maniera. Madonna. Sono così dense che fanno attrito. No, ho visto una cosa incredibile, ragazzi. Anche io. No, vabbè. No, 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 no. Chi cazzo se le sarebbe mai immaginato? Le skittos. Pere. Queste saranno le più buone. Se io le mangio muoio, te lo dico già, intollerante al fruttosio, quelle mi ammazzano. Bene, abbiamo scoperto, quindi, che ci sono un po' di cose. Chocolate drink. Qui abbiamo quello che sembrerebbe... Qui abbiamo quello che sembrerebbe essere una sorta di snack al grano, che è chiaramente chiamato pane. Pane. Un po' piatto per essere pane, ma facciamo finta che sia pane. Poi, le skittos, che ci riempiranno di carie a fine giornata. Pere. Pere in busta. È tipo una pappetta dove si sentono dei... Mmm, che buono, ragazzi. E quindi questo sarà il nostro dessert. Io ti passo questo e adesso tu mi dici... Cheese spread. E l'inflazione, sai che lo spread, ecco, però è del formaggio, quindi costa tantissimo. Esatto, esatto. È una pasta di formaggio. Sarà malvagissima e sarà strabuona, secondo me, su questo pane. È vero, ma proprio... Una spennellata. È cheddar, il cheddar è buono anche sul culo. Poi abbiamo questo, che è il pasto. Secondo me è il main, sì. Il pasto principale, non ci sono delle grafiche belle come d'altre parti, c'è una scritta proprio buttata lì a cazzo minchia. Ma a noi va bene così. Questo qui è un drink proteico al cioccolato, che non so quanto possa essere buono, ma... È proteico. È proteico. Quella che cos'è? Qui c'è scritto elbow macaroni in tomato sauce. Credo che sia per contenere questa. Credo anch'io. Che bella roba. La fondina dei macaroni. La fondina dei macaroni, la tactical holster per i macaroni. Troppo direi. Funziona un cazzo, però vabbè, insomma. Qua c'è un sacchettino con un po' di cose. Apriamo il sacchettino. Cambiamo coltello per aprire quello lì? No dai, forse si apre anche così, guarda. Io lo metto qua, come il fucile di Chekhov. Salsa piccante. Questo caffè, a parte che è talmente poco che c'è solo la carta qua dentro. Cioè, mettiamolo per sport. Questa è la salviettina per pulirsi le mani. Oh, il culo. Questa è la schifezza da mettere insieme al caffè. È tipo una roba per fare una sorta di cappuccino schifoso. Dici, il creamer non-dairy dry for coffee or tea for grams, non-dairy dissolved content in one third canteen. 8 oz of beverage. Gianna's Brothers Packing Co, Kansas City, M0641064. Questo qua lo posso prendere anch'io, perché non c'è il lattosio. Zucchero. Ma questo qua è carino, minchia. È vintage. È vintage. Sale iodato, perché se non è iodato non si piace. No, comunque io ho già dato. Fiammiferi, anche se qua non c'è niente da accendere. Si accende un paglione. Questo è un pastorettino di carta. E delle gomme da masticare. Qua è rossa e qua è bianca. Cioè, mi confondo. È come Matrix. È pillola blu, pillola rossa. È un cucchiaio. È un cucchiaio. Uno. Uno perché due costava troppo. Questa è la parte importante. Dobbiamo concentrare i nostri... Un momento catartico. Quindi riempiamo d'acqua questo. Ci appoggiamo sopra questo. Ma come cazzo fa l'acqua a non uscire da qui? Enrico, tu ti fai troppe domande. Appena fai così esce l'acqua. Ah! No. No, allora, siamo stupidini. Quindi io lo apro. Ci sono due punti di apertura. L'ho rotto. Secondo me. Ho fatto una cazzata. Ho già fatto... Ho fatto cazzata. Ho fatto cazzata. Bisognava aprire questa. Mettersi l'acqua. Girarla. Facciamo che questa diventa... Diventa... Vabbè, ma dai, su, insomma. Cos'è un video senza un po' di avventura? Quindi io posso terminare la cazzata. Quindi apri quello. Poi lo mettiamo qui dentro. Esatto. Ok. Non è che qua c'era un reagente che se lo tocco muoio, no? Quindi noi mettiamo quella lì dentro. No, aspetta. Lasciala lì. Prendi quello che è rimasto. La metti lì. Metti l'acqua. Poi lo mettiamo qui. Tu dici, facciamo un complicato sistema di specchie leve. Va bene. Fa vedere se entra. Facciamo una prova. Vai. Quanti rossi ci vogliono per cucinare un MR? L'importante è spingere finché non entra. Allora, mettiamola già dentro. Ma tu sei sicuro che ha senso mettere due robe... Tanto c'è già una plastica lì. Ho paura che questa non regga. Che non regga. Ok, allora sì. Questa mi dà più fiducia. Ti dà più fiducia quella lì. Taglia ancora di più già che ti piace tagliare le cose corte. Quindi basta riempirla fino a qui. Attenzione. Ma io ti dico se overfilli. Vai, 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 vai. Stop. Quella adesso dovrebbe diventare bollente. Roventa per chi non si accontenta. Perché poi non abbiamo pensato una cosa. Così l'acqua non resta all'interno però. Perché uscirà da lì. Vabbè, Enrico, io dico che proviamo. Tanto comunque farà cagare. Ok, fa un rumore... Esatto, vuol dire che si è attivato. Frizzola. Ok, grazie. Bene, io farei una cosa. Farei uscire l'aria. E' calvissimo. E' calvissimo. Vai, 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 vai. Sfruttiamo la potenza calorica. Il calore. Cristo Dio. Ma è... Ma è bollentissimissimissimissimissima. Guarda che incredibile roba. Adesso mi uscino. Aspetta, apriamo ancora. Ostialido. Ostialido. Ah, forse è per quello che non dovevamo sigillarlo. Adesso esplode. No, no. Lascia lì una... Come si dice da mia parte, una spessa di aria. Ok. Lasciamo che gli elbow macaroni si cuocquano. Ci facciamo un aperitivo con il pane al formaggio. Il pane al formaggio, dai. Tempo di cottura dei macaroni, secondo te cosa? Sono tipo barilla 12 minuti? Sì, più o meno. Noi andiamo al sentimento. Ma io faccio partire così vediamo di dimenticare. Guarda come fischia. Senti il chimico che trasuda. Forse non dovremmo respirarlo, tra l'altro. Buena! Ma è proprio una toma. Ma che brutto! È tipo un pezzo di toast. È un pseudo toast che puzza di cose brutte. Sì, ha il retrogusto un po' di culo, se devo essere. Tenga le porne alla sua parte. Il wheat bread. E adesso ci mettiamo lo spread al formaggio. Spread al formaggio. L'inflazione è un brutto lavoro, eh. Si scappa. Guarda com'è bello giallo. Che bontà. Guarda l'incredibile. Che schise, ma c'è rum. Guarda, io mi accontento anche di poco, sai. Guarda qua. Abbonda, abbonda, Ricco. Guarda, te lo lascio volentieri anche perché se lo mangio muoio. Perché andare al ristorante quando puoi mangiare questo? Che buono. Ti basta, ti prego. No, basta. Che schifo. Tentifricio al formaggio. Cin cin. Andiamo a sentirlo? Via. Formaggio e formaggio. Gli alberi sono alberi. È concentratissimo. Prendete tutte le forme di formaggio sulla faccia della terra e mettetele qui dentro. Allora, il pane sembra tipo una tigella che però non è stata cotta. Bravo. E con le piadine crude, no? Le piadine, esatto. Però, tutto sommato, se si scadasse un po' in padella, buono. No, è buono. Io avevo fame. Infatti, buono, buono. Come l'oca. No, però dai, minchia, è buonina. Devo dire che è buonina. Io ovviamente, vedi, sono un figlio del demonio perché ho ancora le bottiglie di plastica che uccidono l'ambiente e tu invece sei bravo, hai la borraccia e tutto il resto. Presa dal rubinetto. Tra l'altro, quindi ancora più bravo. Io invece no. Stiamo creando il vetro. Secondo me qua... Sai cosa si può fare? Un viruté. Ah beh, giusto perché se no si scalda solo da una parte. Voilà. Ne avevo fatta un'altra anni fa che a momenti... Cioè, era proprio esploso il sacchetto. Perché si sta gonfiando? Si sta gonfiando. Perché si sta gonfiando? Non credo che dovrebbe gonfiarsi. Adesso esplode tutto. Fanculo. Oggi c'è effettivamente caldo, eh. Infatti, io sono in maglietta corta quando, tipo, l'altro giorno mi mettevo felpe, giubbini e siamo anche in alta... In alta quota. Sai che nell'attesa ti dirò... Mi faccio una skittles. Uno skittles. Guarda che bello. Ah, verde ha già. No! Beh, io lo mangio lo stesso, tanto. Guarda, c'è anche una formica. Comunque, davvero, cioè, siamo a un passo dalla morte. Ma no, dai, insomma... Ma abbiamo detto dove siamo. No. Che dici? Possiamo appropinquarci alle merende? Secondo me potremmo esserci. Ok, è talmente caldo che è abbastanza gustinante. Quindi? Questa potrebbe scaldare ancora, tra l'altro. Quindi, secondo me, puoi anche, se non fai la cazzata che abbiamo fatto noi, usare questa qua per scaldarti anche l'acqua. O anche il pane, per dire. Potevi scaldare anche il pane, secondo me. Questo spiega perché... Poteva essere ancora più buono. Sembra... Che cazzo sembra? Non lo so. Sembra tutto, tranne che cibo. C'è una bustina di questo colore qua, così. Sembra un campione di laboratorio, sai. Esatto. Momento dei momenti. Tututuruturù. Guarda lì l'incredibile sceglievolezza. Che schifo. Beh, è la classica pappetta da pasti pronti. Ci sono anche delle erbette. Infatti, senti questo aroma speziato? È vero, sa di... Senti, guarda, rosmarino. Ma sai che in realtà... Ti porgo il cucchiaio originale. Ecco la sbobba. È una pappetta di una consistenza non definita. Prego, attinga alla materia. Allora, pasta. Chiamarla pasta è un po' un eufemismo. È... Cazzo è sta roba? La consistenza è quella dei fagioli. Però è pasta. Esatto. E comunque ci sono i fagioli. No, non è vero, non ci sono. No, no, no. Il sapore non è male, ma la consistenza della pasta... È terrificante. Vomitevole. È cotta. Messa dentro una roba liquida, quindi si creano muschi e licheni, e poi di conseguenza viene ricotta. Ma che scadenza aveva questa roba qua? Non credo che sia scadenza. Sai, ci ho guardato prima. No, ma mi ha incontrato ormai. Comunque davvero, il sapore non è male. Se hai fame si lascia mangiare. Incastrala qua in questa fessura vertebra di moffetta. La fame c'è, quindi io la mangio volentieri. Non è... È a livello di quello che mangiavi quando andavi agli scout. Io mi ricordo quando andavo, io non ho fatto gli scout, ma sono stato al doposcuola, all'asilo. All'asilo facevano la pasta stracotta. Sì, sempre. Non so se anche da te era così. È uno stato simbolo ormai della pasta stracotta. E mi rimanda un po' a quei tempi. È vero, quelle robe tutte musci musci. Cioè, proprio che le tocchi si sbriciolano, no? Sì. Oh, però cazzo, eh. Ci sono anche i pezzettoni di polpa, eh. Guarda qua. Porca puttana. Pezzettoni di pomodoro. Ma sai che, ti giuro, il sugo è veramente buono. Cioè, non sembra una cosa così... Direi che poi, con questo panorama qua, qualunque cosa è buona. Ero così congettato su cibo che mi ero dimenticato la location. Location 10. Il cibo un 7 per adesso. Poi magari il drink proteico mi fa ricredere, però... Mi spaventano le pere. C'è scritto pere e poi ha la stessa consistenza della pasta col sugo. Due domande me le farei, eh. Poi viene fuori che dovevi scaldarle e metterle nel sugo. Anche il formaggio era da mettere dentro lì. Abbiamo sbagliato noi, siamo degli scemi. Mettere il formaggio dentro. Se vuoi fare una prova, io te lo reggo aperto. Scende proprio una cacchetta. Sì, sì, guardi. Una bella forchettona. E' buono. E' buono, sapendo. E' la svolta. E' la svolta. E' la dovevamo fare così sin dall'inizio. Ma un bel cucchiaione. Ma spariamocelo. E che fai? Te ne privi? Esatto. Gnom. Che ti incolla sul palato. Effettivamente tra qualche mese devo saccare le piastrelle in bagno. Rispetto ad altri pasti principali che ho mangiato in certe razioni francesi, tedesche, questa non male davvero. A me piace. Ho creato un sacchettino del rusco. Ah, fantastico. Guarda, con tutte le nostre robine perché quando si va in questi posti non si deve sporcare. Guai. Vi vengo a trovare a casa se buttate qualcosa. Ok. Allora, direi che possiamo passare al dessert. Che tanto si è anche scaldato. E a temperatura... Guarda, non so questa cosa se posso aver fatto una cosa bella o meno. Ma poi c'è, non è che c'è scritto, non so, marmellata, vellutata, pere. Pere. Già qua vedo delle bolle. Non ce la fa. Ogni volta che apre qualcosa gli spruzza addosso tutto. Non lo voglio guardare, mi sto rifiutando di guardarlo. C'è usanza di fare la frutta cotta, non la mela cotta, la pera cotta. E poi dopo diventa più o meno una cosa del genere. Io non la sopporto quella roba lì. Davvero? Ti giuro che la detesto. Tanto buona, fresca, croccantina. No, bisogna renderla... Cotta. ...demonio. Quindi questa qua è un incrocio tra una sorta di marmellata e una purea. Ma anche qui cosa facciamo? Se ne priviamo? Eh no, eh no. Anzi, io avrei tenuto il formaggio da aggiungerci. Perché a questo punto l'abbiamo messo su qualunque cosa. Ma io aspetto che lo senta tu. Sì, sì, faccio lo stronzo. Vado, eh. Poi le faremo sapere. Attenzione. Niente, mi sta... Adesso è un'inculata, in realtà sta fingendo. Ah, che bel tocco. È una pera che ha visto giorni migliori, questo lo possiamo dire, però è sempre una pera. Cioè, quando la mandi giù ti viene un pochino il sapore di pera, perché si è amica di pera. Sì, diciamo che è molto dolciastra e anche molto spappucciosa. Ma io però, scusa, mi è venuto in mente adesso... Il sale. Il sale, dove cazzo andava messo? Allora, lo zucchero andava là, per compensare il sale nelle pere. Per dar sapore. Un po' di sale sulle pere. Guarda, se non è cattivo lo provo anch'io. Sì, onesto. Puoi tranquillamente farne a meno. Sospettavo che sarebbe stata... Perché ho detto, dai, se con il grana è buono, perché è molto salato, è saporito, però... Se volessimo fare una roba... Cioè, vuoi prendere un po' di quello e metterlo qua? Eh, perché teoricamente è latte cioccolato, quindi smischiato alle pere diventano le pere al cioccolato. Ok, ok. Facciamo così. Metti poca acqua. Lo spappucciamo? La mettiamo qui, poi rimettiamo altra acqua per fare il drink. Che dici? Hai capito? No, però mi fido di te, quindi... È stato il canale tuo. Ok, prova a shakerando. Mi dissocio da quello che ho appena fatto. Allora, io... senti... Minchia. Sembra il chobar. Sì, sì. Creiamo l'essere perfetto. È talmente risa, porca troia. Ok, ok. È valido? Sì. Mi sembra un po' restio. Ha il suo perché. Dai, sì. Piuttosto che quelle stranissime barrette fruttate, quelle cose ultra artificiali, alla fine questo... Non è male, no. Ci sta. Poi guarda com'è, che bel pantone di colori che si è creato. Delicious. Nice. Si sono addormentate le gambe. Sai che ti dico il compenso con un po' di salato. Eh, bravo, esatto. Rico adesso comprerà tipo 12 miliardi di cose MR solo per prendere il formaggio. Ti giuro, io adoro i contrasti. Madonna che mazzata che dà. È vacca boia. Anche perché sul fondino c'era tutto quello che non te era arrivato prima. Esatto. Ah, se lo gusta proprio, eh. Poi, diciamo, c'era il formaggio. Più sa da sottopiede. Me l'aspettavo andassi in un'altra direzione, quindi va benissimo. Prosegui pure. Più sa di sottopiede. Da tallone, no? Sì, quello da grattato via dalla suola, proprio. Più è buono. Siete d'accordo con Rico? Fatecelo sapere nei commenti. Sei un po' bloccatino con la schiena, ti dobbiamo fare un po' di esercizi, secondo me. Adesso ti faccio fare un po' di allù. Devi arrivare almeno lì. Se mi impegno ci arrivo. Guardalo, guardalo. Bene, direi di finire con il nostro drink al toccolato e qualche altro skittles e poi abbiamo finito. È un peccato però, cosa fai? Ci lasci l'ultimo cucchiaino? Dai, per i bimbi in Africa. Quel cucchiaino lì è bellissimo, è piccolino. Sì, non tiri su niente. Vabbè, perché così mangi più lentamente. Va, che buono. Con disprezzo. Allora, chiudiamo il... non è un trittico, ma il... va, è più o meno. Tieni conto che loro dicono di metterla fino qua. Ok. Quindi noi la metteremo fino lì, ci proviamo almeno. Fino a prova contraria. Sì. Forse se ne va un po' di meno perché abbiamo già usato un sacco di... Esatto, quindi noi la mettiamo... Dovrai aiutarmi anche tu perché io non posso sapere a che livello è. È l'ercia questa farcia, è dotta uno schifo veramente. Acqua fredda, più o meno 60 secondi, noi l'abbiamo fatto. Da consumarsi... Subito. Subito, in un'ora. Perché c'è il latte. Tieni, Rico. Dagli un occhio. È l'Atenesquick. L'Atenesquick. Fa una cosa, passami la bustina con la delle pere. L'ha detto anche carico della serie. Ma sì, è un po' una buona idea. Vai. Ok. Ragazzi, dov'è che si vede lì? Qua si vede? La cioccolata delle macchinette è versione fredda. Avrei detto un'altra cosa, però visto che hai deciso di andare con quella non ti contraddirò. Salute. Sa un po' da cartone, eh? Sì, bravo. Sì, sa quel retrogusto... Mi aspettavo più cioccolato, più dolce. Lo zucchero! Ma quest'uomo ne ha una marcia in più. Eh, se no, che cazzo. Eh, voglio dire. Vuoi non usarlo? Tomola. Ok, grazie mille. Guarda, gli do anche una bella girata. Mmm. Sai quando prepari il budino? Sembra di mangiare quello, solo che non l'hai fatto se l'hai preso prima. Uno step. Ti stanno chiamando? Sì. Ok. Non risponderai? No. Ok. Ho questo ginocchio che ha la temperatura lavica. Questi scrittos partono dure, poi diventano morbide e poi si cristallificano, si cristallizzano. È proprio il contrario del mio pene. Aspetta, scusami. Ah! Cioè, pulisci bocca. E' una confezione inapribile. Io tengo il coltello fermo e tu muovi quella lì. Voilà. Era il modo più stupido per farlo. Cos'è? Ma che schifo! Che cazzo di gusto! È il coso, la cannella! Ah, che schifo! È la cannella! Ecco cos'è! Mi fa vomitare a me la cannella. La cannella è una di quelle cose che proprio lo sbocco. Io mangio qualunque cosa, ho mangiato anche gli insetti, ma non la cannella. Davvero? Come sono? Buoni! Davvero, io adesso, prossimo video, mangio gli insetti corico. Sono buoni! No, a me perde un sacco questa cosa. A me che tu mangi la saving and ti aspetti sape di menta. Adesso si abbia riportato la bocca in... Ripristinata la flora. Paterca! Arrivati a questo punto, bisogna buttare. Pane strano, misto, tigella, piedina. Da 1 a 10, giusto? Sì. Ok, io gli do un 7,5. Che può arrivare ad 8 se scaldato. Allora, direi anch'io un 7,7 e mezzo per com'era così, ma scaldato, facendolo ammorbidire un pochino al microonde. Poi facendolo passare in piastra sulla padella. Che si gonfia anche un pochino. Esatto. Così, probabilmente, diventa una roba da 9. Il formaggio è molto, molto, molto concentrato. È proprio una roba che ne basta quel tanto proprio così, giusto per... Poi, io sono un cesso di merda, l'ho finito tutto, però è molto forte. I maccheroni. Io lì voglio chiedertelo io. Cosa ne pensi dei maccheroni al tomato sauce? Qui devo fare due voti. E penso anche tu. Maccherone, 2. Perché non è un maccherone. Era... Non so neanche come facessi a stare insieme. Invece il sugo, direi un 7. Perché comunque sembrava proprio un tipico sugo che puoi acquistare al supermercato. Che non è né buono né cattivo. Ci sta. C'erano anche addirittura dei pezzi di pomodoro. Vero. Cioè, fresco, cazzo. Cioè, non erano quelle robe liofilizzate che poi dopo magari si spappucciano. Se ho solo la buccia perché rimane... No, era una pezza di polpa di pomodoro. Un pelato. Allora, a me la pasta non ha dispiaciuto così tanto dargli un 2. Forse perché l'avevo già provata in America. Quindi mi aspettavo già una roba. E quindi il mio dispiacere nel trovare una roba che farlocca. E non è stato così tanto. Gli darei un 3. 3,5. Quindi non chissà che cosa. Il sugo... Sì. 6,5. 7. Io ti direi. Un bel 7 se lo meriterebbe. Perché non rispetto a un sugo normale. Dove non c'è paragone minimamente. Però rispetto a quelli che ho provato, questo era particolarmente buono. Invece le pere, diciamo che siamo rimasti contenti del fatto che non c'erano cose strane, raffazzonate chimiche. Ma aspettavo la cannella io per esempio nelle pere. Perché gli americani mettono la cannella ovunque. Nelle pere soprattutto. Non c'era. No, l'hanno messa nelle robe da masticare. C'è, venga così, ti hanno inculato lo stesso perché alla fine le mangi. Forse era da masticare. Masticare mentre mangiare. Diciamo che le pere comunque avevano la consistenza della pera. Erano cotte, quindi erano un pochino più mollite. Però tutto sommato ci sta. Dopo un po' diventa pesante perché sono un po' dolciastre. Poi noi ci abbiamo messo pure stronzi bastardi, anche il cioccolato. Quindi io direi voto 6. Perché sì, a me la pera piace, ma così. Sì, 6. Anche perché ho apprezzato che non sapessero di nulla, ma non sapevamo veramente nulla. Non c'era neanche lo zucchero normale che ti aspetti di trovare in una pera. Quindi, beh, ma poi se vuoi delle pere fatte bene ti porto dietro la stazione. Quella se ne fanno un sacco di pere. Ecco, guarda. Adesso gliela farei la domanda su cosa pensa del formaggio, ma se lo sta... Ancora, guarda, guarda. Ma Dio buono. Per rendere disgustoso questo momento, sai cosa sembrava quest'ultima spremuta? Ecco, vai, dimmelo. Un curioso. Sai quei brufoli quelli proprio... Quelli belli gialli che sono lì condensati. Sì, che lo ripremi anche la seconda volta. Esatto, per togliere il... Però questa puntina salata mi ha fatto chiudere il cerchio. Ah, beh, in maniera contenta. Sì, mi piace chiudere col salato. Vabbè, le skittles sono le skittles. Non è che si può... I skittles è il punto più alto, sia come packaging, che tu vedi tutta sta roba gridere. Poi skittles, cioè tranquillo, anche se sei in un buco di merda, ok, in Afghanistan, hai skittles. Non abbiamo provato la salsa piccante. Lo faccio io. I take one for the team. Io nel frattempo me ne lavo le mani. Ah, comunque questa era una salvezina umidificata. Come fa ad essere umidificata? È secca come... Guarda, with a cleansing lotion. Forte. Vacca boia. È stata un'idea del cazzo. Vai, ti faccio compagnia. Per dire poca perché mi ha bruciato completamente. Eh, te l'ho detto. Voglio leccare un sasso per amma. Merda! No, è potentissima. Dopo un minutino comincia a smettere di bruciarti qua. Non toccarti gli occhi che sennò sei morto. Porca puttana. Sto lacrimando. Dio stro... E non l'ho deglutita neanche troppo perché se la buttavi in gola era la fine. Ma secondo loro uno dove a cazzo la mette una roba del genere? Vorrei farvi notare che ce n'è ancora qua. Ma come l'ho toccato con la lingua ho sentito le stelle. La salsa piccata è 0 su 10. Basta. Abbiamo... Abbiamo dato. Abbiamo dato. Come il sale. Gli ho dato. Come il cantante. Dio dato. Dio dato. Come la bestemmia. Dio ca... Ne arriveranno delle altre. Io mi diverto sempre un casino a mangiare e a ridere con voi. Direi che adesso possiamo mangiarci su della montagna. No ma no no. No. Io ti ringrazio di avermi invitato a questa cosa. Mi sono divertito tanto. Come al solito io e lui ci troviamo bene. Quindi speriamo di portarvi poi magari altri contenuti. Adesso abbiamo un paio di robine. C'è qualche idea. A tempo debito. Esatto. Io sono Red del Monopolisoft Air. Comunque qui sul canale è ospite del canale di Rico. Che ringrazio nuovamente. E ti lascio chiudere il tuo video. Poi magari adesso perché comunque è il tuo video. E quindi come al solito noi ci vediamo prossimo lunedì alle 18. Sempre qui sul canale con un nuovo video. Ciao a tutti. Stay angry. Senti qua. Le articolazioni hanno capito che esiste il bacino. Ah fico. Ah. E va a far pure. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Ma se io prendessi questo fazzoletto. Che teoricamente non doveva essere un fazzoletto. Se mi ci soffiassi il naso senza usare la parte che è stata a contatto col peperoncino. Potrebbe funzionare. Occhio. Io non so se... Ma sai che è già passato. Quindi faccio la tecnica del ciclista e va bene così. Sì. 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 Sì.